Ho visto sul programma che c'è scritto, io dovrei parlarvi di esperienze di collaborazione nella missione a Gentes, è vero? Dunque io devo solo parlarvi di collaborazione e di missioni. Devo dirvi prima di tutto che per me la collaborazione in missione è stata essenzialmente un processo di conversione. Perché in questa parola conversione, che in greco mi piace tanto, la si chiama metanoia. Meta vuol dire oltre, enus vuol dire pensiero. Non vuol dire convertirsi, non fare più peccati, questo è riservato ai Vescovi. Ma per noi normali, la metanoia vuol dire imparare a cambiare testa, andare oltre con il pensiero. E come tutti noi nella nostra formazione, credono i religiosi in modo particolare, siamo sempre stati abituati a riflettere e a insistere su quella che è la nostra identità. Non parlate di identità dei vostri istituti. E abbiamo sempre parlato dell'importanza del nostro carisma. E quindi noi ci siamo sentiti religiosi nella misura in cui vivavamo della nostra identità e del nostro carisma. E anch'io sono stato educato così. Ho cercato di diventare un buon missionario della Consolata, secondo quelli che erano le indicazioni di identificazione con il mio istituto e con il nostro carisma. E ho fatto la cavolata più grande della mia vita, perché una volta ordinato sacerdote, appena ordinato sacerdote, è finito di studiare alla Gregoriana, volevo fare che cosa? Il missionario. Perché io ero un missionario della Consolata. A noi veniva proposto di scegliere un paese dove si potesse andare a fare i missionari. Indicare un paese. Io ho guardato sull'annuario dell'istituto e ho escluso tutti i paesi dove noi avevamo scuole. Non volevo andare in un paese dove avessimo anche solo un asilo, perché avendo appena finito di studiare qui ho detto quelli mi cacciano lì dentro e io volevo fare il missionario, almeno dicevo per un po' di anni. Dunque ho chiesto lo Zaire, si chiamava così allora, il Congo, perché in Congo noi eravamo lì da tre anni solo e non avevamo scuole. Niente. Solo missioni. Dopo un giorno il mio generale mi scrive, la sua richiesta è stata accettata. Io ho gridato al miracolo. E vi assicuro, 22 giorni dopo sono partito per il Congo, senza sapere una parola di francese. Niente. Io volevo andare in missione. Sono arrivato alle 4 del mattino a Chissangani e quello che mi ha aperto la porta, ero con un altro padre, era niente meno che l'unico sveglio in procura a quell'ora lì che era l'arcivescovo. Un affarino grande così. 1,45 m è il massimo. Intelligentissimo. Il padre che mi accompagnava gli ha detto, questo è un nuovo missionario. E il vescovo ha chiesto come si chiama. E l'altro ha risposto, si chiama padre Trevisiol. Questo affarino di arcivescovo fa. Ma io questo nome lo conosco. Dico, no, io non conosco lei prima di tutto e sicuramente lei non conosce me. Io ho detto, eccellenza, forse è un altro padre che lei si sbaglia. No, no, dice, io ho tre visioli, io lo conosco. Aspettate. E' andato in camera sua, è tornato con una lettera e io vedo che la lettera ha l'intestazione dell'istituto. Il vescovo, alcuni mesi prima, aveva chiesto al mio superiore generale un padre per il seminario di Muresa. E' vero questo, eh? Il mio generale, senza dirmi niente, ha risposto, oh guardi eccellenza, noi abbiamo un giovane sacerdote che ha terminato i suoi studi adesso e siamo lieti, doveva accappararsi la benevolenza del vescovo, e siamo lieti di metterlo a sua disposizione. Così io avevo scelto il Congo, lo Zaire, perché non c'erano scuole. Alle quattro del mattino, del primo piede messo in Chisangani, ecco, padre tu sai dov'è, mi sono trovato destinato al seminario teologico di Muresa. Poche volte io sono uno che non piange mai, ma quella mattina io sono scoppiato letteralmente a piangere. Non vi dico le maledizioni che ho mandato ai miei superiori, ma se c'era un aereo che tornava indietro, io sarei tornato indietro. Lo dico con tutto il cuore, io sarei tornato indietro. Io ero partito per fare il missionario, avevo cercato di essere anche un buon missionario della Consolata. In quegli anni lì eravamo tutti presi un po' dalla spiritualità di Charles de Foucault, volevamo vivere au cœur de masse, volevamo stare un po' lì con la gente. Io mi ero preparato un sogno missionario che si è infranto con l'aereo che è arrivato a Chisangani. Il povero orcivesco, che vi ho detto, era una persona che ha visto questa situazione qui, ha visto che cosa avevano combinato. Dice, ma come, lei non lo sapeva. No, dico, quel disgraziato del generale a me non ha detto niente. E allora lui mi dice, beh, guardi, vada un mese o due nella comunità dei suoi confratelli, si abitui un po' e poi va dove io devo mandarla. Due mesi dopo che ero nella comunità dei confratelli, l'arcivesco arriva con la Volkswagen, era un disastro, e è venuto a prendermi, non per portarmi a Muresa, ma perché aprissimo un nuovo seminario a Bugna, in alta montagna, in alta montagna. E così? Che cosa ho dovuto imparare? Che io dovevo cambiare testa, che ero missionario e non per fare il piccolo fratello di Gesù, ma che ero missionario per fare ciò che mi veniva chiesto, perché quello che mi veniva chiesto era il bisogno di quella chiesa lì. e ho imparato a dire sì, sì, io devo dare una mano, io devo dare una mano. Non è la mia missione, ma la missione è qualcosa di più grande di me. e la missione mi chiede anche poco alla volta di cambiare, di cambiare. Quel magone ho detto, vabbè, andiamo. E poco alla volta ho cominciato a chiedermi ma io per chi sono qui? Perché sono qui? Tutte le cose che sapevo quando studiavo la Gregoriana che quei gesuiti lì mi avevano infarcito la testa? Eccellenza, non erano vere. O almeno non erano reali per me. tutta la teologia della missione che io avevo imparato poi alla fine si misurava con le volte che io riuscivo a capire di che cosa aveva bisogno la realtà in cui mi mi trovavo. e così mi sono trovato senza ideali intendo metafisici mi sono trovato non in una comunità ma da solo a fare un lavoro per il quale nessuno mi aveva preparato e ho dovuto imparare a dire ma io perché sono qui? Per chi sono qui? E la risposta a queste domande non c'era dentro di me non c'era ho dovuto cercarla insieme a chi stava accanto a me a chi poteva dirmi qualche cosa di vero di provato e di sentito da da lui prima che prima di me ah quando comincio a fare così divento troppo complicato e non mi piace ma scusate non avete mai fatto i test tu che sei del claretiano il test vocazionali siete state ammesse alla professione senza aver fatto una indagine profonda sulle vostre motivazioni vocazionali da noi era obbligatorio bisognava andare al centro rulla e se rulla non ti rullava eh no no non venivi a messo alle ordinazioni non c'è niente da fare è vero o no questi dicono di no ma sanno che dicono bugie noi più giovani sappiamo che era così e e alla fin fine decideva rulla se io avevo motivazioni sufficienti per fare il prete o no per essere missionario o no e siccome io avevo capito che il gioco era quello gli raccontavo di tutto e di più di quello che lui voleva sentire perché perché erano cose non vere non scendevano dentro non dico che non fossero cose intelligenti studiate ma non mi toccavano e adesso mi ero trovato a vivere in una situazione dove che tutte le motivazioni spirituali che avevo scritto nelle relazioni io inventandole e lui credendomi non mi tenevano più in piedi anche qui ho dovuto cominciare a dire fratello mio tu che sei un po' più vecchio di me secondo te perché noi siamo qui per chi noi siamo qui noi facciamo un lavoro insieme e noi vogliamo ottenere dei risultati comuni ma noi chi ci tiene in piedi e la prima vera cooperazione per me dato che voi volete che parli di esperienze è stata proprio quella di imparare a diventare missionario sul posto sul posto confrontandomi con la realtà di fronte alla quale il Signore mi aveva posto sconvolgendo tutti i miei presupposti ideali pseudo spirituali e cose del genere per me la collaborazione prima di tutto è stata un accogliere una spinta ad accogliere la diversità con la quale io dovevo confrontarmi e non una diversità di azioni ma una diversità di identità profonda direi quasi una diversità che poco alla volta entrava dentro di me e creava un Alberto nuovo avveniva la meta noi il cambiamento di test vedete io ho due minuti ma finisco è stato questo presupposto questo confronto con una alterità diversa dalla mia che mi ha aperto poi dopo una visione di quello che era la missione per me per cui tutte le cose che capitavano per quanto nuove per quanto strane erano normali normali una volta capito che io crescevo crescevo accogliendo ciò che l'altro mi donava ciò che l'altro era ogni volta man mano che io rispondevo con un minimo di generosità o il massimo di generosità di cui disponevo alle istanze che mi venivano da fuori io crescevo io mi trasformavo e io diventavo disponibile a dire di sì a tutto a tutto anche alle cose che non avrei mai immaginato reali per me o che io avrei dovuto fare ecco mi sembra per me questa è stata naturalmente qui ci sono 24 pagine le leggerete domani ma questa è stata la motivazione più profonda del mio crescere nel accogliere nello stare nel collaborare con gli altri che la providenza metteva accanto a me e perché non vi rattristiate troppo vi dirò fino a che punto sono arrivato una crescita spirituale inimmaginabile per voi dopo un anno che ero in un posto il vescovo mi dice Alberto fammi un favore vai dall'altra parte dico ma sto qui ce l'ha con me no no non ce l'ho con te guarda abbiamo vai almeno per un periodo lì perché in quella situazione lì dico ma tu lo fai perché io sono l'ultimo arrivato no no non lo faccio perché ti stimo e ho fiducia comunque alla fine che cosa ho fatto sono andato perché adesso ero capace di dire non mi importa dove tu mi mandi mi importa dov'è che io posso dare me stesso facciamo il saluto di addio ehi gente tamburi nella sua magnificentissima bontà l'arcivescovo permise che con il suo fucile da caccia andassimo ad abbattere un bufalo per la festa e il soldato con il bufalo con il fucile non con il bufalo è andato e ha ammazzato la festa e abbiamo fatto una festa tutti erano contenti che me ne andassi tamburi rumore danze balli e tutto quello che volete a un certo momento in mezzo a questa festa qui crolla il silenzio come quando voi vi addormentate a scuola un silenzio di tomba la folla si apre in due in due ale ce l'ho già raccontato a te Tiziana si e toc 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 una signora anziana non giovane molto anziana con i capelli alti e quei capelli bianchi altissima avvolta in un pagno in quel vestito africano bellissimo eh non lo metti tu ascoltate un po' mi si avvicina come un silenzio che si poteva tagliare e mi sputa in faccia non lo faccio ci chiediamo ci chiediamo ci chiediamo e chiac e chiac io non ero molto palido come qui perché allora c'era il sole ma sono sbiancato come il muro e faccio di tutto per tirarmi indietro il catechista che avevo vicino Mugliesani un santo catechista mi spinge avanti verso sta donna e quella mi centrava ancora meglio e voi ridete ma è vero e provate a mettervi in una situazione così ascoltate un po' e poi com'era venuta se n'è andata tutta questa scena che avviene in silenzio io che cerco di tirarmi indietro da questa che mi sputa in faccia e l'altro che mi spinge avanti perché lo prendessi bene e quando lei è partita io dico ma Mugliesani cosa è successo cosa le ho fatto ovviamente io leggevo non c'è un insulto più grave credo da noi che sputare in faccia una persona io dico ma che cosa le ho fatto e lui mi dice Alberto cosa lei ha fatto e io dico ma che cosa ha fatto lei è la nostra donna di Dio un ganganzambe eh lei è la nostra donna di Dio non era battezzata lei eh lei era una pagana eh veniva dal villaggio veniva si va andiamo via eh lei è la nostra donna di Dio è venuta a portarti la benedizione che la madre dà al figlio che deve prendersi cura di lei lei ti ha portato la benedizione che la madre dà al figlio che deve prendersi cura di lei beh mi commuovo ancora adesso e sono passati 40 anni perché vedete poi collaborare significa essenzialmente questo rifarci un cuore secondo il cuore della gente imparare ad amare non con il nostro metro ma con il metro di chi ci sta vicino se noi non arriviamo a questo cuore capace di accogliere la molteplicità nella sua più straordinaria manifestazione e non riusciamo a sentire che quello non quello è nostro no no che noi diventiamo così allora non collaboreremo mai fingeremo sempre ma quando ci saremo scoperti diventati come l'altro allora davvero impareremo ad amare andate a fare ricreazione che ora grazie a tutti